Ragazzi belli, adesso facciamo la torta quella ai tre cioccolati, però ne uso solo due cioccolati stavolta perché non ho messo, non metto quello amaro, poi vi farò vedere. Allora, siccome biscotti non ho, ma perché la voglio fare? Perché voglio fare fuori queste fette qua. Però vanno bene qualsiasi biscotto secco, pavesini, qualsiasi biscotto secco volete, anche tanti usano i digestivi, mi sembra, per fare il fondo della torta. Io userò queste perché così le faccio fuori, perché un po' che ce l'ho e voglio toglierle, perché per colazione preferisco mangiare anche solo tre biscotti, ma che siano biscotti e non le fette. E dunque ne userò, ne userò 200, comunque va bene, qualsiasi tipo di 200 biscotti secchi. Vado a metterli dentro nei bimbi e li distruggo, poi uno può usare qualsiasi cosa per distruggerli. Qualsiasi cosa, ragazze belle. Poi anche se uno le può schiacciare anche con quello per la carne, se uno ce l'ha in casa. Faccio rumore, spengo. Poi ragazze, sempre dentro nei bimbi, io vado a mettere 80 grammi di burro fuso. Io l'ho fuso nelle microonde. Faccio andare 10 secondi, a velocità 3. Perfetto, guardate com'è venuto bello, anche con quelle fette. Se lo vado a mettere nella teglia e lo affiattisco. Poi va messo in frigorifero per almeno 30 minuti, così si abbassa bene, si raffredda bene. Sapete che io uso le nocche per abbassare. Poi se la voglio livellare bene uso ancora il cucchiaio poi dopo. Così almeno ne ho approfittato per finire queste fette, perché era da un po' che giravano e non mi andavano più. Quando avevo fatto la dieta avevo mangiato sempre quelle, però adesso proprio non mi andavano proprio più. Buono. Preparando i cioccolati. Allora, col bimbi sminuzzo, aspettate che vi faccio vedere. Col bimbi sminuzzo 200 grammi di cioccolato. Adesso qua c'ho quello al latte, poi dopo farò quello bianco. In un pentolino sono andata a mettere 250 di panna, io sto usando questa qua del Lidl, panna fresca. E 100 di latte, 250 di panna, 100 di latte, 200 di cioccolato e una bustina di torta a gelo, questo qua. Adesso lo sminuzzo il cioccolato, poi vi faccio vedere. Vedete, sminuzziato bene. Adesso vado a metterlo dentro. Nel pentolino dove ho fatto già scaldare la panna, vado a metterci dentro anche il cioccolato. E la bustina. In così rimalgama tutto bene. Quando vedete che è sciolto proprio tutto bene bene, vuol dire che è pronto. Dovrebbe venire anche l'Inso, penso. Lo porto in bollizione. Se lo vado a mettere dentro il latte, vi faccio vedere. Vedete, sì. Adesso la vado a mettere fuori un attimo sulla finestra e poi dopo la metto nel frigorifero per un'ora e poi mettiamo l'altra sopra. Come ho fatto con il cioccolato al latte, l'ho fatto anche con quello bianco. L'ho sminuzzato. E adesso vado a metterlo dentro nella panna e nel latte. Ricordiamoci sempre 250 di panna, 100 di latte, 200 di cioccolato. Ecco, è una bustina di gelatina. Ecco qua. Giro, 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 giro. Gira che te passa. Gira che te passa. Si scioglie bene. Vado a rimettere al posto il bimbi. Quindi torno a pulita. Tra l'altro, in momenti, prima lo brucio. Mi spaccavo la... Mi sarei spaccata la testa da sola. Eh, se lo rompevo, vedevi te. Praticamente, l'ho acceso. Non era giù bene. Dea ha cercato di bruciarsi. Sì, per fortuna che mi sono accorta subito e lo spento immediatamente, ragazze. Perché se no, si fotteva. Non so come mai. Di solito c'è la sicura che se non è ganciato bene non parte. Non lo so come mai, invece, stavolta è partito. Diamo fuori la torta. Sì, ho già avuto bella durina. Vedete? Vedete un po', vedete? Sì, se la vedete. Per me... Ecco, forse così ho trovato la posizione che vedete bene. Guardate che bella. Una mezz'oretta nel frigorifero e viene subito. Poi adesso la dobbiamo lasciare raffreddare. Più si lascia e più viene buona. Eh, almeno due ore. Però, se uno riesce a lasciarla tre ore o anche tutta una notte, il giorno dopo è ancora più buona. Cioè, uno la può preparare tipo il sabato sera per la domenica. Cioè, ovunque nel solito un pranzo, una cena. Ecco, più ore stai, meglio è. Voilà. Se andiamo a mettere il bianco. Et voilà. E adesso la metto nel frigorifero. La lascio prima fuori sulla finestra e poi nel frigorifero. Fatta. A più tardi. Bella. Adesso l'ho tirata fuori dal frigorifero. Già vedete? Guardate com'è venuta. Non so se si vedono gli strati. Sì, che si vedono. Sì. Adesso voglio fargli la decorazione. Ho del cioccolato, quello amaro. E glielo andrò a mettere sopra. Prima gli appoggio. Vediamo se riesco. E' quello che ho in mente. Appoggio così. E' quello che ho in mente. Andiamo un po'. Buon appetito. Adesso pranzata. Devo usare qualcosa. E' molto furbisco, vediamo un po' se col coltello riesco. Ti che te l'ho fatta? Ragazzi belle, te l'ho fatta. Andate ma che carina che è venuta la mia tortina. E' un moschino non venire qui a scegliare la mia torta, tu non ci stai qui. Ehi, come vi sembra? Come vi sembra? Uno spettacolo. Dopo ne mando anche un po' la nonnina. E vi faccio vedere anche la cena, cosa mi sto preparando. Pure, che devo girarlo adesso. E qua c'è del pollo che l'ho messo a marinare nel vino e in un pochettino di pesto. E poi vedi cos'è buono. E ora vi saluto, ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie.